Tra preparazione e mercato le formazioni irpine non si fermano, anzi continuano a lavorare a ritmi serrati con l'intento di trovare i giusti over e i giusti under da inserire nelle loro rose. Il suo lofra grazie al direttore generale Tornatore si è assicurato Armando Capaccio, classe 2000, prelevato a titolo definitivo dall'Ebolitana. Il Santo Ammaso di Francesco Messina ne ha promosso nel campionato di eccellenza, invece ha messo a segno un altro importante colpo di mercato. Ecco Loreto, classe 86, il centrale partenopeo che ha vestito le maglie diafragolese, puteolane e gragnani in D, si è legato al sodalizio bianco-verde. In promozione l'Ariano ha scelto il nuovo tecnico, si tratta dell'ex grotta Michele Bruno. Alla corte della vis resterà il difensore Terracciano, l'ex Cicciano è la prima riconferma. Al momento restano in dubbio le permanenze di Bernardo e Capodilupo, pezzi da 90 della squadra. Il città di Mercogliano, formazione di prima categoria, invece ha messo nel mirino l'attaccante ex Bagnoli Rosario Masullo, esperta punta con un lungo passato tra le fila del Montella.